A breve ci diranno che Baroni è il nuovo Ancelotti, sta a voi crederci o meno. Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti sul mio canale. Attenzione perché è già iniziata. Una parte di stampa pro-lutitiana sta già iniziando l'opera di rivalutazione di Baroni. Quello che sarà a breve annunciato come nuovo allenatore della Lazio, da allenatore qualsiasi, sta già diventando il nuovo Messia. Un grandissimo allenatore che porterà la Lazio al quarto posto. Ripeto, io mi auguro e spero e tifo che Baroni faccia non bene, benissimo, alla Lazio. E spero veramente che porti la Lazio al quarto posto. Però, oltre al cuore, c'è anche la testa che mi dice che Baroni non è l'allenatore ideale per la Lazio. O meglio, Baroni è stato preso dall'utito per uno e un solo motivo. L'utito si è stancato di avere allenatori che gli rompono le scatole chiedendo ai giocatori. L'utito ha preso Baroni perché Baroni non gli dirà A quest'estate. Qualsiasi persona arriva, qualsiasi giocatore gli venderà, Baroni starà zitto e sarà contento e cercherà di fare il meglio con la rosa a disposizione. Sei passato da Sarri che ti chiedeva Berardi, Zeriski, a Tudor che ti chiedeva otto acquisti e di vendere Isaksen e Rovella, a Baroni che non ti chiederà assolutamente niente. Ed è questo il motivo per cui Baroni sarà il nuovo allenatore della Lazio. Non perché è un ottimo allenatore, non perché ha esperienza internazionale, non perché Fabiani e Lotito hanno visto in Baroni un grandissimo allenatore. Semplicemente perché Lotito si era rotto le scatole di un allenatore che gli rompeva con richieste di mercato. Ed è questo il motivo di Baroni. Ma attenzione perché è già iniziata la campagna pro Baroni. E ripeto, io non c'ho niente contro questo allenatore, ma se in vent'anni, in vent'anni, non ha mai allenato una squadra nella colonna sinistra della Serie A, un motivo ci sarà non solo, ma in vent'anni, vent'anni di carriera, Baroni ha avuto due stagioni positive. Questa con il Borona e quando ha promosso Lecce in Serie A. Basta, tutte le altre esoneri, fallimento, eccetera. Non c'è una serie di stagioni positive di Baroni che dice «Eh, questo è rampa di lancio». Non solo, anche il paragone con Maurizio Sarri, che qualche radio ha fatto, non c'entra assolutamente niente. Baroni ha 61 anni, Sarri quando è andato al Napoli ce n'aveva 56, e sono tanti anni di differenza. Non solo, Sarri è partito dalla terza categoria, Baroni è partito dalla Lega Pro. E anche lì è una differenza, perché se in vent'anni rimbalzi fra Lega Pro e Serie B senza mai arrivare a una Pro di Serie A, un motivo ci sarà. Se invece tu parti dalla terza categoria e a 56 anni arrivi al Napoli, vuol dire che hai fatto molto bene in questi anni. Non sei rimbalzato fra Lega Pro e Serie B per vent'anni. Hai continuato a crescere anno dopo anno. Non solo, ma di Sarri si parlava benissimo da anni. Nell'ambito giornalistico, poi, se voi siete chiusi nel vostro piccolo mondo, non lo sapete, ma già dalla Lega Pro si parlava benissimo di Sarri, di uno che aveva portato un calcio rivoluzionario, moderno, offensivo, eccetera. Di Baroni non si è mai parlato. Quest'anno Sarri ha detto uno degli allenatori che ha subito di più è Baroni, e quella è stata la prima volta che Baroni è stato menzionato da qualcuno fuori da Verona. Ed è un fatto, non è un'invenzione, è la realtà. Paragonare Baroni a Sarri è veramente cercare di sforzarsi, di inventare qualcosa che non esiste. Sarri ha fatto tutta la gavetta, Baroni no. Baroni è partito dalla Lega Pro. Ecco, iniziamo a puntualizzare. Poi vedrete che in questa settimana, dopo l'annuncio, prima dell'annuncio uscirà fuori che Baroni è un allenatore di stile Ancelotti, uno che riesce a trovare sempre la quadra giusta, uno che non si fossilizza su schemi, un calcio offensivo, vincente, eccetera. Ma non è così, non è così. Ancelotti sta a Real Madrid, Baroni stava al Verona. E, ripeto, se Baroni lo volevano Udinese, Cagliari e Monza, un motivo ci sarà. O sono tutti pazzi, o la Lazio sta sbagliando. Direi più la seconda, no? Visto gli ultimi anni dei risultati, no? L'Inter, campione d'Italia, Milan in Champions League, il Napoli ha preso Antonio Conte, ma noi prendiamo Baroni e siamo i furbi. Purtroppo non è così, purtroppo non è così. Baroni, io credo che farà tantissima difficoltà, perché sarà la prima volta in una piazza grande, la prima volta con la competizione europea, la prima volta con uno spogliatoio particolare. Io mi auguro che faccia bene, ma bisogna essere obiettivi e dire che l'acquisto, la decisione di assumere Baroni, è una decisione che lascia molto, molto perplessi. E bisogna essere corretti. Non si può illudere il tifoso dicendo che Baroni è la scelta giusta, che è una sorpresa, farà benissimo, eccetera. No, sicuramente se farà benissimo sarà la sorpresa, ma se dovessi puntare 5 euro fra Conte al Napoli e Baroni alla Lazio, io credo che nessuno punterebbe su Baroni, perché obiettivamente questa è una decisione che lascia molto perplessi. Perplessi, soprattutto considerando che c'era De Zerbi libero, c'era Allegri libero, c'è Pioli libero, c'è Sarri libero, c'è Sergio Consesau libero. Volendo vuoi fare una scommessa? Prendi Miro Close. Miro Close, amato dai tifosi, conosce bene Roma, ha già allenato, non ha fatto grandissime esperienze, però non è che Baroni l'ha fatta di meglio. Oppure vai su Alessandro Nesta. Nesta che è andato al Monza, io credo che se lo tido avesse alzato il telefono e chiamato Nesta, Nesta avrebbe detto al Monza, come ha fatto Baroni col Cagliere? Ha fatto guarda, mi sta chiamando la Lazio, aspetta un attimo, vediamo se chiudo con loro. E invece si è andato su Baroni. E si è andato su Baroni per due motivi. Uno, perché non ti romperà le scatole sul mercato, e due, perché passi da 3 milioni netti di Sarri a 1,5 di Baroni. E vuoi mettere la differenza? Sono tanti i soldi che risparmi, e però poi il problema sarà che, mentre le altre lotteranno per la Champions, tu lotterai fra il 7 e il 8 posto. Sperando che Baroni finisci la stagione, perché io credo che a ottobre e novembre già inizieranno le prime difficoltà e là ci guarderemo intorno, perché lo sappiamo. L'odito non esonera nessuno perché non vuole pagare i due allenatori, però se la situazione affonda, che facciamo? Ci teniamo Baroni in Serie B? Non lo so, vedremo. Però attenzione ragazzi, non credete a questa nuova campagna pubblicitaria che sta uscendo sul fatto che Baroni sia un ottimo allenatore sottovalutato. non lo è. In vent'anni, vent'anni di carriera, ha avuto due stagioni positive. Direi che non è sufficiente per meritarsi una B come la Lazio. Soprattutto se hai fatto vent'anni di carriera. Se ne hai fatti cinque, hai fatto due anni buoni, è un discorso di referente. Ma se su vent'anni ne hai fatti due, vuol dire che hai fatto l'un per cento di buone stagioni e direi che non è abbastanza. Questo ovviamente è il mio giudizio. Voi che ne dite, scrivete un commento qua sotto e noi ci vediamo con un altro video prossimamente. Grazie ragazzi. Grazie a tutti.